Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti nel video dei preferiti skin care del 2018 infatti mi vedete completamente struccata con questa faccia meravigliosa ma perché ho deciso di iniziare questo video struccata? non per far vedere quanto sono un cesso a pedali ovviamente no perché credo molto in una cosa che sto per dirvi ovvero sia che la skin care in generale parte prima di tutto da te che mi stai guardando ovvero sia finché non impariamo ad accettare noi stessi finché non impariamo ad accettare anche il nostro tipo di pelle più reattiva o meno, più grassa o più secca insomma finché non impariamo ad accettarci al 100% anche la skin care sarà solo un qualcosa di in più che potrebbe non funzionare di prodotti per la cura della nostra pelle ne esistono tantissimi ma la prima cura parte da dentro non solo per ciò che mangiamo perché ormai credo sia ampiamente dimostrato che non è sempre detto che l'alimentazione sia la causa di determinati sfoghi della pelle assolutamente cioè siamo nel 2019 penso che si sia capita questa cosa no? quindi non solo per ciò che mangiamo per ciò che beviamo per ciò che ingeriamo per il nostro stile di vita anche ovviamente sono tutti fattori che concorrono alla resa poi finale della nostra pelle però prima di tutto parte da noi soprattutto quando abbiamo dei problemi quando ci guardiamo allo specchio e non riusciamo a guardarci oppure quando ci guardiamo allo specchio e riusciamo a vedere tutto anche quello che gli altri non vedono nel mio caso specifico ho imparato questa cosa perché per chi non mi seguisse da tantissimo tempo ormai io sono Miriam Piatuere e ormai da 10 anni soffro di acne penso che si possa anche vedere ho intrapreso varie tipologie di percorsi e ho veramente provato la qualunque dal metodo più blando fino ad arrivare a quella che oggi i medici definiscono l'ultima spiaggia per la cura dell'acne gestita bene, gestita male questo non importa fatto sta che ho provato anche quello e siamo ancora qui questa cosa mi ha fatto molto riflettere appunto ho finito questa fantomatica cura l'anno scorso dopo due anni perché è una cura che in sostanza non è tanto basata sul tempo che ci metti a raggiungere il dosaggio cumulativo ma appunto si basa sul raggiungimento di questo dosaggio cumulativo e guarda caso c'è sempre quella percentuale di persone sfigate nella quale ovviamente direi chicca rientra per cui non funziona questa cosa perché io il dosaggio cumulativo l'ho belle che superato praticamente ho fatto la cura ho fatto tutto quello che dovevo fare ma ovviamente al termine della data prescritta dal medico siamo ancora qui e io per una sorta di rifiuto personale non sono più andata dal dermatologo non sono ancora andata da un nuovo dermatologo perché capite bene che dopo che ne vedi tantissimi dopo che provi davvero qualsiasi cosa ti stufi anche un po' quindi questo per dirvi finché non impariamo ad accettarci non andiamo da nessuna parte ma mi rendo anche conto che è difficile accettarsi perché nel momento in cui ti guardi allo specchio c'hai tutta sta schifezza e sembri più vecchia perché poi ti trucchi e sembri ancora più vecchia di quello che sei perché ovviamente tutti i prodotti ci si infilano dentro alle cicatrici a tutto quello che hai in faccia e quindi capite bene che con o senza trucco a volte persino meglio senza trucco capite quindi non sono qui a fare la zen di turno che vi dice dovete accettarvi per quello che siete vedrete che risolverete i mali del mondo assolutamente no è solamente per dirvi imparate cercate di imparare ad accettarvi perché aiuta tanto aiuta tanto a non svegliarsi al mattino e piangere davanti allo specchio perché tante di voi questo mi hanno scritto aiuta tanto ad affrontare la vita di tutti i giorni perché ci sono cioè questo problema non ce l'hanno solo delle ragazzine ma ce l'hanno anche le donne adulte rapportarsi anche nel mondo del lavoro nel mondo della scuola eccetera con un problema che sta proprio in faccia ovvero il primo posto in cui le persone ti guardano non è facile quindi bisogna veramente imparare ad accettarsi poi ovviamente sempre cercare di risolverlo questo problema o comunque di migliorarlo perché a un certo punto perdi le speranze è l'unica cosa che puoi fare è cercare di migliorare quindi me ne rendo benissimo conto però appunto ripeto e chiudo il discorso imparare ad accettarsi è la cosa migliore in assoluto io in questo momento mi riferisco alla skin care del viso quindi ai problemi legati al viso all'acne eccetera ma in realtà è un discorso applicabile a tutto quindi che sia rosacea, cuperose, vitiligine qualsiasi altro problema psoriasi qualsiasi altro problema che possiamo avere sul viso ma anche al di fuori delle problematiche legate alla pelle ovvero curvi, non curvi agé, non agé tutto quello che può essere legato a dei problemi che noi tendiamo a rendere immensi qui dentro va bene non mi dilungo troppo se siete curiosi relativamente al discorso iso tretinoina vi lascio la playlist qui sotto perché lì lo so che sono tanti video ma lì dentro a quei video troverete tutte le risposte alle domande che mi fate quasi quotidianamente anche in direct su Instagram alle quali ormai ve lo dico non sto più rispondendo perché se leggo e mi dite di aver visto tutti i video però dovete assolutamente chiedermi questa cosa e quella cosa so benissimo avendo fatto io i video ed essendomeli guardati anch'io tantissime volte perché sono egocentrica su queste cose devo guardarmi 850.000 volte e mi rendo conto che ci sono le risposte nei video non rispondo quindi abbiate anche pietà di me perché io non posso ricevere giornalmente veramente tonalati di messaggi con domande e risposte che trovate all'interno di spedetti video quindi se siete curiosi vi lascio il link nell'info box sicuramente farò presto un aggiornamento perché appunto la situazione è nettamente cambiata rispetto all'ultimo video ok chiuso questa parentesi iniziale che ovviamente rende sempre i miei video extra iper lunghi ma fortunatamente vi piacciono se ancora non siete iscritti al canale vi invito a farlo iscrivendovi qua sotto c'è il tastino rosso è gratuito e supportate il canale è entrata a far parte della Dili Kikka Makeup Community la community più bella del web ok e se il video vi piace mollateci un like questo sempre comunque mollateci un like perché alla Dili Kikka fa piacere ma soprattutto mi fate capire attraverso i like attraverso i vostri commenti se il contenuto vi piace oppure no insomma se avete qualcosa da dire vi aspetto anche nei commenti bene iniziamo con il succo del discorso i preferiti skin care del 2018 sono pochi proprio perché non ho potuto sperimentare tanto quando si fa una cura di questo tipo la prima cosa che il medico ti dice è appunto di non esagerare quindi tendenzialmente usi quello che ti dà il dottore nel mio caso specifico il mio dermatologo non mi ha detto usa questi prodotti mi ha detto puoi usare tutto quello che vuoi l'unica cosa che io ti chiedo di utilizzare è questo prodotto qui ovvero la Cicalfate crema riparatrice di Aven questa ve l'ho fatta vedere miliardi di volte non so neanche più quante volte l'ho ricomprata è una crema riparatrice che appunto usata durante il trattamento con isotretinoina va proprio a riparare la pelle ed è un passaggio fondamentale se non vi volete trovare la faccia che cade a pezzi che sanguino cose così quindi è una crema veramente molto importante ma soprattutto io continuo ad utilizzarla non solo per il fattore riparatore ma anche perché è una crema che all'interno ha un antibatterico fondamentale se soffrite di acne perché l'antibatterico aiuta un po' a contenere la proliferazione appunto dei batteri perché poi l'acne è uno stato infiammatorio causato da un batterio poi il batterio è portato da altre cose ovviamente ed è soggettivissimo però è causato da un batterio di conseguenza antibatterico poi è anche una crema che viene data ai bambini infatti è una crema adatta a tutta la famiglia per le varicelle per gli eritemi insomma tutte quelle cose che sono infiammazioni irritazioni infatti qui c'è anche scritto per pelli sensibili ed irritate è una crema che non ha bisogno di prescrizione medica è una crema che mi sento di consigliare a tutti per qualsiasi problematica legata alla pelle appunto stati irritativi e cose di questo genere è una crema che mi piace tanto e che veramente uso tantissimo e non mi ha mai deluso ovvio è un pastone cioè questo ve lo mettete in faccia e siete unte bisunte in un modo impressionante però veramente ho visto la differenza usarla non usarla la pelle mi ringrazia quindi continuerò ad utilizzarla dal momento che come ormai ho capito il mio problema non passerà finché non avrò di nuovo il coraggio di approfondire la cosa quando ce l'avrò lo approfondirò meglio facendo degli studi più approfonditi perché evidentemente non si ferma solo qui per adesso uso continuo a usare lei un'altra cosa ragazzi scoperta alla fine del 2018 ma che rientra per forza per forza nei preferiti del 2018 e 2019 per sempre finché funzionerà e che veramente con il cuore mi sento di dirvi andate comprate se avete problemi di acne ragazzi è un prodotto che ho scoperto per caso su internet ed è un prodotto che mi ha levato lo sfogo abnorme che avevo in faccia e queste sono solo più macchie ho un brufolino mignon qua e un qualcosa qui ma che praticamente sta sparendo queste sono solo più macchie questo davvero quando l'ho ho visto che funzionava così bene ho detto ma io in questi dieci anni che cosa ho usato perché non l'ho mai visto perché questo prodotto ha un potere magico di farvi sparire il brufolo nella metà del tempo in cui normalmente vi sparisce ed è anche questo molto soggettivo ho delle amiche che hanno un bubbone tanto e due giorni dopo sparito tutto io ci metto due settimane minimo a farmi sparire il bubbone e poi non parliamo delle macchie perché le macchie sono una cosa eterna quindi prima sparisce il bubbone prima sparisce la macchia prima sto meglio anche io quindi questo prodotto non solo agisce sul brufolo quindi andando a colpirlo nel segno per via degli ingredienti ragazzi ancora non ho avuto tempo di mettermi lì leggere l'inci e sapere esattamente che cosa ci sia all'interno di questo prodotto qua ma qualcuna di voi su instagram mi ha detto che c'è dell'acido salicidico insomma un acido particolarmente adatto per curare l'acne praticamente non solo vi va a distruggere i batteri che pullulano all'interno del brufolazzo esterno o sotto pelle ma ha anche una sorta di aiuto contro l'ipercheratinizzazione che cosa significa contro l'iperpigmentazione della macchia quindi continuate ad applicarlo anche dopo che il brufolo è scomparso per andare a risolvere più in fretta il problema relativo alla macchia che avete poi sulla pelle io veramente ho visto una differenza pazzesca mi sono chiesta perché in dieci anni io non l'abbia mai conosciuto questo prodotto qua l'unico suo enorme enorme difetto è che dura pochissimo perché sono solo 10 ml di prodotto sono qui a farvi veramente una paternale senza farvelo vedere eccoci qua questo è il bioniche actin quick pen anti imperfezioni pelle seborroica a tendenza acneica si tratta di una penna da solamente 10 ml cioè io veramente vorrei non so un boccione da 100 ml di sta cosa perché per il problema che ho io cioè questo capisco che è un prodotto pensato per chi ha il brufolo sporadico però per il problema che ho io veramente mi servirebbero i litri di questa roba qua e da dicembre ne ho già ricomprate 3 quindi rendetevi conto che veramente finisce in men che non si dica l'applicato oh no quel poco che c'era l'ho sprecato tutto perché l'ho schiacciato porca miseria l'applicatore non agevola perché l'applicatore non so se lo vedete ma è una sorta di spugna lip gloss che praticamente fa fuoriuscire il prodotto si riempie di polvere anche se alla fine è chiuso dentro il tappo però si riempie di polvere e quindi ogni 3x2 io sono lì a lavarlo come fosse una spugnetta per il trucco con del sapone poi asciugarlo lasciarlo asciugare insomma perché non è igienico questo applicatore qua non è igienico avrei preferito molto di più la classica puntina ora mi sta venendo il dubbio che forse vedendo uno spazio tra la base e l'applicatore forse si può togliere questo applicatore qua e quindi cosa si fa? si prende si spreme ovviamente a tubetto e lo andate proprio ad applicare sulle imperfezioni ora dato che finisce veramente ben che non si dica io lo utilizzo solo la sera nel periodo di capodanno nel periodo in cui ho avuto proprio lo sfogo veramente tanto pesto lo applicavo mattino e sera e la guarigione è stata decisamente più rapida applicato mattino e sera anche lui ha l'antibatterico all'interno anche lui evita la proliferazione batterica quindi ovviamente scongiurate anche eventuali sfoghi derivati dagli altri brufoli cioè insomma se non avete lo sfogone enorme o comunque se ce l'avete rassegnatevi l'anima costa sui 12 euro però è veramente una mano santa almeno per quanto mi riguarda l'odore è un po' di detersivo ma funziona alla grandissima ovviamente non sponsorizzato da Bionica ragazzi non ho alcun tipo di interesse di questo tipo ma è veramente un prodotto anzi se Bionica me lo vuole mandare sono qui hey sono qui apprezzo moltissimo perché è un prodotto che mi sta veramente salvando la faccia in tutti i sensi un'altra cosa io lo metto la sera e poi aspetto cerco di aspettare una mezz'oretta prima di mettere la cicalfate sopra perché è già una formula questa qua della quick pen che mi va a smontare la formula della cicalfate mi rendo conto che quando poi la metto si smonta sotto le mani quindi aspetto una mezz'oretta che si asciughi o che comunque venga assorbito dal buboname successivamente vado a mettere la mia cicalfate sopra comunque ragazzi veramente una mano santa e ve lo consiglio tanto vi metto per tutto ciò che ho a disposizione i link nell'info box io sto andando a caso senza seguire un ordine preciso ma va bene uguale allora poi per quanto riguarda la crema tutti i giorni è una crema correttiva se avete problemi appunto di macchie cose ma non avete voglia di truccarvi mettere fondotinta eccetera allo stesso tempo non avete voglia di mettere anche la protezione solare una scoperta recente di fine 2018 grazie all'erichioba che ringrazio tantissimo è stata la Sica Pear questa è una crema all'erba di tigre con color correcting treatment di Dr. Jet Plus la trovate da Sephora è una crema semplicemente verdognola dall'odore particolare che a me piace tantissimo poi messa sulla pelle fa un po' di color correcting per via del colore verde poi però si trasforma come fosse una sorta di cicicream e va a non solo a levigare tantissimo la pelle ovviamente non è naturale quindi qua dentro sicuro che ci sono i siliconi comunque va a levigare la pelle ma soprattutto vi da un colorito uniforme quindi ripeto se avete voglia di un qualcosa che sia idratante non adatto a pelli grassi ve lo dico già perché tanti di voi me l'han detto miri io ho la pelle grassa l'ho messo su un disastro è corposa è abbastanza ricca come crema infatti la sto usando d'inverno d'estate non penso riuscire ad utilizzarla perché è abbastanza tosta e soprattutto se la uso la ciprio perché è come fosse una BB cream c'è proprio effetto troppo dewy dopo qualche ora per me quindi la in ciprio però insomma direi che dato che ha anche l'SPF 30 se non ricordo male sì SPF 30 è un'ottima idea per neutralizzare il rossore e allo stesso tempo avere il viso uniformato e protetto dal sole quindi eccola qua questa è la mini size tra l'altro che è sfruttabilissima e da 12 mesi di scadenza detersione così a caso detersione non ci spendo troppe parole sapete che lo amo questo è il gel detergente delicato con olio extravergine di oliva toscano in GP bio per corpo e capelli della linea bimbi di biofficina toscana questo è una figata è un gel detergente a base oleosa però non unge fate attenzione non è come d'ogeno è semplicemente delicatissimo sulla pelle va a detergerla e soprattutto durante il periodo di cura con isotretinoina in cui la mia pelle cadeva letteralmente a pezzi non facevo in tempo a sciacquare il detergente che già mi tirava lui mi ha veramente aiutato tantissimo ragazzi mi ha aiutato tantissimo continuo ad utilizzarlo perché continuo ad avere la pelle secca infatti la mia pelle al momento è asfittica sono struccata anche per farvi vedere cosa significa avere la pelle asfittica ovvero sia molto secca che tira mi tira ai lati della bocca mi tira la faccia eccetera ma comunque tende a lucidarsi tende a lucidarsi perché perché la pelle asfittica è talmente tanto secca che per effetto rebound si lucida perché è come se fosse un eterno problema un eterno corto che la pelle cerca sempre di risolvere quindi tu sei troppo secca ok ma andiamo subito del sebo a ristabilire insomma tutto quello che è il pH l'idratazione della pelle però poi ne manda troppo e quindi ne manda troppo e ti lucidi però in realtà la pelle non si stabilizza mai quindi la situazione è questa questa è la pelle asfittica no e tra l'altro appare come vedete anche in video stanca appare smorta è proprio sbattuta non è una pelle bella da vedere ok quindi se sentite dell'acqua che corre perché mia madre proprio adesso ha deciso di pulire il bagno molto bene questo aiuta tantissimo veramente a risolvere un attimo la situazione e a cercare di mantenerla quanto meno stabile in questo periodo poi ho utilizzato questo prodotto qua che mi è arrivato tramite Octoly da Darfen che sto praticamente se non l'ho finito sì penso che stasera sarà l'ultima sua battaglia praticamente si tratta della Intral Mousse Doucher Nel Tue Yanta la Camomile per pelli sensibili questa è una mousse detergente che è uno spettacolo allora il profumo a me piace perché mi piace non so dirvi di cosa profuma però è delicatissima e mi piace ed ha un bel effetto sulla pelle perché non ve la lascia che tira però allo stesso tempo fa quella schiumetta tanto carina che soprattutto per le fissate di igiene di pulito come la sottoscritta ci dà l'idea di pulire a fondo la pelle quindi ci piace tanto è mussosa è morbidosa è veramente un bel prodotto che non dovessi terminare milioni di altri prodotti che mi hanno mandato ricomprerei davvero al volo visto che in farmacia ce l'hanno e lo ricomprerei davvero subito perché è veramente un ottimo prodotto per lo più ha 24 mesi di scadenza quindi a voglia ma vi dico che io l'ho terminata con un uso costante due mesi due mesi e l'avete terminata e mi piace tanto mi piace proprio tanto e ve la consiglio molto sempre di dar fan pensando al contorno occhi quindi di palo in frasca proprio ho utilizzato tantissimo ormai lo devo buttare perché ha 6 mesi di scadenza e li ho superati e praticamente non mi fido tanto a usare i prodotti soprattutto da skin care oltre il periodo di scadenza perché è una pelle appunto molto reattiva e molto problematica questo qua è l'ideal resource è un anti dark circle eye illuminator un contorno occhi dal potere ultra levigante leggermente giallino che quindi va ad illuminare un pochino la zona è un contorno occhi perfetto per il trucco ma proprio perfetto non che è perfetto anche per tutti i giorni non è tanto da sera perché è proprio siliconico cioè si sente che è siliconico però vi dico che è veramente bellissimo me l'avete visto usare praticamente sempre nell'ultimo periodo e mi piace mi piace un sacco peccato che appunto non riesco a finirlo per tempo cioè lo devo buttare ed è secondo me a malapena metà 6 mesi di scadenza 15 ml di prodotto il che è davvero tanto all'applicatore in acciaio che quindi vi agevola anche la stesura e vi sgonfia un po' le borse perché rimane sempre un po' freschino e quindi fa piacere ok un altro contorno occhi che invece ho usato tantissimo prima di scoprire questo qua di Darfenn e che continuo a usare adesso perché ne avevo uno nuovo è il contorno occhi eye contour di equilibra della linea Argan questo contorno occhi è pazzesco l'ho amato e lo amo tantissimo perché idrata molto bene la zona riempie le rughettine e anche lui è un'ottima base per il trucco appunto del contorno occhi lo usi mattino e sera non ti da alcun tipo di problema per la sera io in questo quest'ultima metà dell'anno ne sto usando un altro che è veramente una bomba peccato che costa veramente tantissimo però questo è veramente un ottimo contorno occhi e lo sto consigliando a tutti e a tutte le età soprattutto perché io ho un problema con i contorno occhi ovvero sia che se sono troppo io mi sveglio al mattino con gli occhi gonfi ma non gonfi per l'azione allergica semplicemente sono gonfi perché sono troppo idratanti per il mio contorno occhi però allo stesso tempo ho bisogno di idratazione perché sento che la zona è secca quindi questo ve lo consiglio comunque a tutte le età e a tutte le tipologie di pelle il contorno occhi che uso la sera e che uso ogni tanto perché o lascio perdere perché comunque metto già questa che è molto corposa e un po' nel contorno occhi ci va a finire quindi non so mi dà l'idea di idratare anche il contorno occhi e un po' perché appunto il prezzo è abbastanza altino adesso non ricordo però è abbastanza altino è questo prodotto è questo prodotto qua di CBN Cosmetic Bionaturel Swiss è una crema contorno occhi iper rigenerante che è praticamente un trattamento alle cellule germinali vegetali attive made in Switzerland e questa qua mi era stata inviata da Isadora in un pacchetto insomma per la collaborazione autunnale diverso tempo prima della collaborazione io ho iniziato ad usarlo ho detto cavoli questo prodotto è non lo so pazzesco pazzesco si tratta appunto di una crema contorno occhi che non mi gonfia minimamente gli occhi io la uso anche la sera e non ho alcun tipo di problema vedo che se la uso continuativamente perché appunto anch'io qua pecco abbastanza non sono abbastanza brava però se la uso continuativamente vedo proprio la zona innanzitutto schiarita che questa è una cosa che ci fa tanto piacere e poi proprio le rughettine anche queste qua di espressione sono affinate tantissimo il contorno occhi è più rimpolpato è più radioso non ho quest'alone scuro sotto è veramente un prodotto fantastico solo che costa costa e non è sicuramente il contorno occhi di equilibrio a livello di prezzo però diciamo che se volete farvi un regalo soprattutto dai direi 25 anni in su perché è già un po' più un trattamento corposo è un prodotto che mi sento di consigliarvi assolutamente perché ne sa veramente tanto un altro contorno occhi che ho usato tantissimo in questo 2018 e sono a malapena un terzo della boccettina si tratta della Quashus Energize di Mesauda allora devo dire che il contorno occhi è il prodotto che mi è piaciuto di più in assoluto della linea skin care Quashus che ho provato anche la crema non è male però se devo proprio scegliere questo è in assoluto il mio preferito idrata molto bene la pelle lascia una sensazione di freschezza nel contorno occhi la leviga tanto e si presta molto bene al trucco quindi anche questo è un altro prodotto che mi è piaciuto molto come scrub invece ce ne sono due in particolare che ho apprezzato tantissimo partendo proprio dall'inizio dell'anno un prodotto che ho amato tantissimo ma qui ragazzi spero che Biofficina mi senta perché io non so se sono l'unica vi prego scrivetemelo nei commenti qua sotto ma io faccio fatica a gestire barra tollerare i prodotti soprattutto per quanto riguarda gli scrub in barattolo perché perché semplicemente lo scrub cosa fai prima bagni il viso e poi vai a prelevare il prodotto ok l'acqua è uno dei degli ingredienti diciamo così che favorisce la contaminazione batterica all'interno dei prodotti cosmetici veramente tantissimo ok è proprio l'idea di dover contaminare il prodotto con dell'acqua tra l'altro neanche l'acqua demineralizzata ma l'acqua del rubinetto e quindi creare dei batteri che potrebbero nelle volte successive di utilizzo del prodotto poi causarmi degli sfoghi veramente mi manda in testa quindi io fatico a usarli sia per il viso che per il corpo perché poi ci sono anche gli scrub per il corpo grossi così che nella doccia lo apri fai un casino inimmaginabile sia d'acqua spenta che d'acqua accesa insomma un casino che è fatico a usarlo appunto ed è un peccato è un peccato perché questo scrub qua è uno spettacolo è uno scrub completamente naturale ai frutti rossi rende la pelle bellissima super liscia super levigata morbida e non tira è veramente uno spettacolo di scrub ora il mio appello ufficiale per mia ufficina è vi prego mettetelo in un tubetto vi prego vi scongiuro metteteli nei tubetti ma non solo per biofficina è un messaggio generale rivolto a tutte le aziende basta con questi scrub nei bocciani perché ci finisce l'acqua che contamina il prodotto e lo rovina quindi vi prego tubetto tanto da quello che so io costano uguale forse il tubetto costa pure meno del vasetto quindi se ci dobbiamo giovare per quanto riguarda la qualità del prodotto e l'amabilità se così vogliamo dire vi prego di metterli nel tubetto perché ragazzi lo amo ma ho proprio paura di schiaffarmi i germi in faccia ok magari è una mia fissazione personale però sapendo questa cosa sull'acqua e appunto sapendo tutte le cose relative ai cosmetici è molto più igienico che io prenda un tubetto e lo strizzo sulla mano che poi chiudo e chi se ne frega ancora meglio se c'è il tappino quello là così che si chiude così piuttosto che andarci a ficcare proprio le mani dentro quindi chiusa questa parentesi è veramente uno scrub ottimo e pure vegan ok stop animal testing made in italy è uno scrub fantastico e mi piacerebbe vederlo in versione tubetto lo amerei mille volte di più ancora di più di adesso l'altro che invece ho scoperto praticamente a fine 2018 ma che è veramente una bomba è la polvere sfogliante metamorfosis di sephora allora questo qua è un barattolo perché questa qui è una polvere messa dentro questa specie di saliera perché altro non è che è una specie di saliera che voi dovete mettere sul dorso della mano aggiungere qualche goccia d'acqua creare la pappetta e poi sfogliate il viso ragazzi questa roba qua oltre al fatto che contiene l'acido salicilico ed è una bomba per le pelli acneiche insieme poi alle perle di jojoba che è comunque uno di quegli oli che fanno bene alla pelle ma non sono eccessivamente metogenici insomma ce ne sono di molto peggio di oli fa benissimo quindi è sfoglia mi fa bene all'acne e allo stesso tempo idrata e mi dà una pelle liscissima questo usato pre trucco vi migliora il make up veramente da 0 a 100 è pazzesco e mi sento di consigliarlo tantissimo è proprio un prodotto meraviglioso l'ho già ricomprato come potete vedere l'ho già ricomprato perché è una favola peccato solo che è un po' marchi ingegnoso io sono un po' pigra come avrete notato e preferisco i prodotti che in un attimo faccio e non devo impazzire mi sta già andando via la voce perché sto sudando questo è Fausto Fausto maledetto che mi sta facendo pezzare per via degli sbalzi di Carola no aspetta ragazzi sto morendo sto veramente morendo ma me sparo tutto il video così tipo Anastasia ok torniamo a noi per quanto riguarda i sieri allora non li ho mai capiti onestamente perché su di me non hanno mai avuto chissà quale effetto ok però c'è stato un siero che ho usato così per provare e che mi ha letteralmente rapita quest'estate che praticamente è stata una manna del cielo perché io d'estate dopo aver lavato il viso la sera veramente l'idea di mettere la cicca al fate era terrificante perché hai un caldo incredibile sudi eccetera e metterti una roba così unta era veramente too much quindi lui mi ha salvato la vita perché piuttosto che una crema meglio un siero d'estate ok perché è più tollerabile e il siero è tanto concentrato quindi diciamo che funziona se vogliamo anche meglio di una crema ovvio che siero e crema insieme 100% però se proprio non riuscite a mettere una crema da notte ricca e corposa d'estate o se avete una pelle grassa quindi non tollerate proprio la crema da notte so cosa vuol dire andate di siero e questo qua che trovate da Tigotà si chiama Argane Argan siero intensivo viso della marca Le Driadi è in assoluto meraviglioso è un siero che sembra gel d'alo infatti se non mi ricordo male c'è anche del gel d'alo all'interno l'olio di Argane è anche dermopurificante viene usato specialmente per appunto le pulizie del viso purificanti si deve massaggiare fino a completo assorbimento è una mano santa perché idrata la pelle il giorno dopo vi svegliate e ce l'avete perfetta liscissima una bomba veramente ed è leggerissimo leggerissimo tra l'altro questo è un prodotto che rispetta gli standard vegani e che è testato contro nickel cromo e cobalto che sono i tre metalli pesanti più comuni insomma per quanto riguarda le allergie ai metalli pesanti è veramente un prodotto che vi consiglio tanto perché comunque anche di notte ci va un prodotto per la skin care quindi se avete una pelle grassa oppure d'estate va troppo caldo lui veramente topissimo la maschera viso in assoluto che mi è piaciuta di più nel 2018 e lo sapete e non ci spendo troppe parole è la clear improvement active charcoal mask to clear pores di Origins non Origins se sbaglio è sempre io la pronuncia Origins questa è pazzesca cioè riesce a sgonfiarmi i brufoli in una sola applicazione mi affina la grana della pelle è meravigliosa non mi dilungo se avete problemi di brufoli acne impurità punti neri andate al sicuro al 1000% di lichicca approved di lichicca proprio garantito questa qui è una mano santa è una mano santa si trova da Sephora è una maschera purificante al carbone attivo e ragazzi ve la consiglio tantissimo tantissimissimo ho amato anche tutte le maschere in tessuto di Sephora dalla prima all'ultima adoro follemente continuo ciclicamente a ricomprarle perché in realtà anche se avete una pelle grassa non vi dovete fermare solo alla maschera questa qui purificante dovete dopo idratare anche la pelle perché bisogna ribalancing bisogna ribilanciare l'idratazione perché questa secca perché ovviamente va a purificare dovete o utilizzare una maschera in tessuto come quelle che appunto uso io di Sephora oppure mancanza di quello io mi sento di consigliarvi un olio secco che quindi vada a idratare appunto perché ho un olio però che non sia comedogeno quindi secco che non vi sentite proprio unte pronte per la padella insomma e io ho usato davvero tanto con piacere questo qui che è il dermo il multiattivo viso e corpo di equilibra è un prodotto appunto non comedogeno con olio di argan è un prodotto che ha molteplici funzioni in particolare appunto è perfetto per le pelli particolarmente stressate particolarmente secche per dare una botta di idratazione è veramente veramente ottimo quindi se non uso le maschere in tessuto subito dopo di lei uso un bel po' di questo oglietto qua e poi alla sera mi faccio la mia skin carcerale però così siete veramente a postissimo per quanto riguarda lo struccaccio lo struccaccio lo struccaccio per quanto riguarda lo struccaggio ci sono tanti prodotti che mi sono piaciuti in particolar modo le salviettine di licia quelle là nella confezione in blu che hanno vinto l'anniversario insomma il golden globe delle salviette struccanti quelle mi sono piaciute molto e ve le consiglio tanto se siete fan delle salviette perché non irritano non scartavetrano la faccia e struccano da dio insieme alle bifasiche di wicon però ovviamente prodotti finiti e già gettati un altro prodotto degno di nota è l'acqua micellare di joie io qua ho una confezione nuova questa comicellare è pazzesca ha un profumo delicatissimo neutro praticamente va a struccare tutto è molto delicata sulla pelle è veramente un'acqua micellare bomba piace tantissimo anche il tappo così facile da trasportare mi sento di consigliarvela davvero tanto perché è veramente molto delicata ed efficace ok passiamo poi alle creme viso che abbiamo ultimato mamma mia pensavo fosse più corto di quello dei preferiti make up ma non lo so le creme viso allora first of all protezione solare specialmente durante la cura con isotretinoina ma comunque se avete dell'acne la protezione solare 50 si d'estate ma anche d'inverno perché i raggi solari ci sono anche d'inverno è vero che sono meno potenti ma fanno danno lo stesso il problema del raggio solare è che va a fissare la macchia molto semplicemente quindi le macchie vi durano 10 volte di più rispetto a se utilizzate costantemente la protezione solare io uso da veramente ormai due anni questa qui che è l'Actin Sun che protegge dagli UVA UVB e infrarossi di Bionique questa qui è specifica per pelli seborroica tendenza acneica la mischio la mia crema idratante perché ovviamente non ho una pelle seborroica ma anche no però tendenza acneica si quindi mi piace che sia asciutta d'estate uso solo lei non uso la crema idratante metto direttamente solo lei mi piace appunto che sia asciutta nickel tested senza conservanti senza profumo e senza glutine addirittura e sono a posto sono protetta con un 50 più è veramente un'ottima ottima crema e io ve la strastra consiglio la mischio veramente tutti i giorni alla mia crema idratante tra l'altro è anche resistente all'acqua e dal tatto asciutto infatti io d'estate l'amo anche per questo perché uscite dall'acqua e non colate latte dalla faccia assolutamente e siete protette per molte più ore perché comunque lei si appiccica la pelle e tante volte la sera mi ritrovavo a dover usare un bifasico perché se no mi lavavo la faccia la sentivo ancora figuratevi e quindi con cosa mischio o con che cosa mischiavo la mia crema solare appunto d'inverno ho finito penso 5 confezioni della crema viso anti rughe di equilibra perché è pazzesca penso sia la prima no no è la prima crema anti rughe che provo a non essere unta corposa bisunta troppo spessa sulla pelle questa qui è leggerissima è corposa la sentite che è corposa però non vi lascia quella sensazione di spessore e pesantezza sulla pelle è pazzesca e la amo tantissimo sapete che io con questa linea argandi equilibra sono veramente falling in love infatti se non usavo lei usavo la crema viso idratante nel tubetto nel tubetto molto facile da trasportare anche tutti e due prodotti che non mi hanno mai causato più brufoli di quelli che avevo mai mi hanno sempre aiutato tantissimo a mantenere la pelle idratata ed elastica ottime vasi per il trucco e veramente mi sento di consigliarla a tutti questa linea qua perché è veramente una bomba tra l'altro questa qua ha anche acido ialuronico all'interno ma anche questa qui se non ricordo male 98% di origine naturale ed è un prodotto adatto anche a pelli sensibili quando finirà anche lei perché siamo quasi in dirittura d'arrivo ne coprerò un'altra subito subito questa purtroppo devo già gettarla nonostante sia quasi alla fine perché ha superato i 6 mesi di scadenza e anche qui non mi fido a prolungare l'utilizzo di un prodotto oltre la scadenza soprattutto per la mia tipologia di pelle ok abbiamo finito è incredibile io perdo sempre la voce a fare questi video parlo tantissimo la mia faccia in questo momento tira la bestia e non vedo l'ora di idratarla spero che questo video vi sia stato utile fatemelo sapere nei commenti qua sotto vi rinnovo l'offerta se vi è piaciuto mollatesi un like e se vi va ci vediamo nel prossimo un bacione ciao ciao